Restiamo nel burgraviato, prende corpo la nuova funivia panoramica da 120 posti di Merano 2000. Potrà trasportare 880 persone all'ora. Il collaudo è previsto ai primi di dicembre, a Natale l'inaugurazione. Vediamo. Gran fermento in Valdinova dove di buon mattino è arrivata con un viaggio notturno direttamente dalla Redaelli di Brescia, la seconda delle quattro gigantesche funi della nuova funivia panoramica da 120 posti di ultima generazione destinata a trasportare migliaia di passeggeri a Merano 2000 a ritmo di 880 persone all'ora. Numeri veramente impressionanti per questo impianto che verrà realizzato dal duo Doppelmeier-Zimmerhofer e sarà operativo per Natale. Ciascuna fune è lunga 4.030 metri, ha un diametro di 72 mm e pesa 120 tonnellate. Per trasportarla è occorso un mezzo speciale da 75 tonnellate che ha viaggiato tutta la notte prima di raggiungere all'alba la città del Passiri. Tra quello è arrivata stamattina qui alle 5 in Valdinova e adesso in mattinata è stata scaricata dal camion e prossimamente direi nelle prossime due settimane inizieranno i tiri delle funi che sarà di nuovo una grande operazione, non poco delicata, però siamo contenti che è arrivata bene. Le restanti due funi sono attese entro settembre, mentre la posa della primo cavo è prevista per la fine del mese. Il presidente della società Funivia e Vigna, Walter Weger, spiega perché la funivia è da preferire all'automobile. Io direi che il primissimo stimolo è il fatto che questa funivia ha una capacità di trasporto a oraria che è più che raddoppiata rispetto alla vecchia e poi il tempo di viaggio dalla stazione di valle alla stazione di monte è di soli 7 minuti. Per cui oggi uno che vuole andare a Merano e Mila, se prende l'automezzo, partendo da qua, ci mette un quarto d'ora, deve parcheggiare lì, deve comunque prendersi la cabinovia. Poi va anche detto che la stazione di valle qui è raggiungibile con gli autobus dal centro. Secondo i tempi programmati, il nuovo impianto verrà collaudato entro metà dicembre con il taglio del nastro che è preventivato per Natale. La stagione sciistica partirà comunque il 4 dicembre e nella prima fase le piste saranno raggiungibili sia con l'auto privata che con i pullman di linea che salgono a Falzeben.